E' il save of the year, non ci credo, il salvataggio più incredibile che abbia mai visto sul colpo di testa, non ci credo, l'analizzeremo al replay ma è veramente un salvataggio incredibile secondo me, è bellissimo questo salvataggio di te lo dico, è un cross perfetto, eh sì siccome sì, Ancora lui!